Continuano i controlli a Favara da parte dei carabinieri della locale tenenza per verificare il rispetto delle regole anti-covid imposte dalla zona rossa. Favara è stata dichiarata ad alto rischio contagi fino al 28 aprile prossimo compreso. Stamattina una pattuglia era in servizio in Piazza della Pace. Diverse le auto che sono state fermate dai militari della tenenza di Via Olanda e gli automobilisti che sono stati controllati. In linea di massima tutto sotto controllo. I favaresi sanno come comportarsi con le normative vigenti. Sembra però che qualcosa non sia stata ben recepita, ci dicono i carabinieri. Siamo in zona rossa, non è possibile viaggiare in auto tra persone di nuclei familiari diversi. Due amici, due conoscenti, due fidanzati non possono viaggiare assieme seduti entrambi nel posto davanti.